Bella a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video, sono Maullo941 e oggi siamo con l'episodio numero 50 Grande obiettivo raggiunto della serie dei gamberetti stagione 2 per cercare di conquistare il mondo Signori, ci arriveremo prima o poi a vincere qualcosa, intanto questa stagione non sta andando proprio male Signori, prima però di partire il video, io vi ringrazio per i like, per i commenti, per i seguenti e per il supporto Vi ricordo di iscrivervi al canale, vi ricordo di fare un salto sul mio secondo canale Mi trovate come Maullo941 in cui portiamo altri gameplay, altri giochi, altre cose Vi ricordo di iscrivervi sui social, mi trovate sia su Instagram che su Facebook Dove vi aggiorno su quando escono i video e su quando siamo in live, sia su questa piattaforma che su quella viola E poi date un'occhiata al link in descrizione per rimanere sempre a contatto con il canale Detto questo signori, non perdiamo altro tempo e partiamo con il video Allora signori, giochiamo contro il crew che sono 19 se non ricordo male Allora diamo una chance a chi? Allora ragioniere che forse sai che non gioca Magree che è triste Mulle va bene Kane è contento, gli diamo una chance a Kane Qui gioca Gibson, sono tutti messi abbastanza bene comunque Daie con l'avello che non ha un'ottima forma E con Davis Sì, va bene Vase là, così continua a crescere E in porta mi tengo loro Signori, eventualmente Spike lo facciamo entrare dopo Miura ce l'abbiamo E... Ti augurerà, non ha una gran forma E un meno uno Quindi niente Va bene così Ti augurerà, ma ecco E' andato verso... A uscire, signori Tra l'altro si ritirerà se non sbaglio A fine stagione Quindi non abbiamo niente che farci Prima di partire col video Volevo un attimo vedere il discorso degli obiettivi Fai giocare il crescita giovani Fama al brand Nessun obiettivo Termina a metà classifica Raggiungi sedicesimi E vendi due giocatori E comprane uno E' importante Questo niente da fare Signori, questo non lo facciamo Va bene Detto questo Scendiamo in campo E non perdiamo tempo Ok signore Ci siamo Calcio inizio per noi Partiamo Tre punti oggi sarebbero importanti Perché ricordiamo Siamo primi in classifica insieme A non mi ricordo chi Chi c'è Il Luton forse Il Luton forse è primo con Noi Riusciamo a fare Un buon 1-2 Su quella fascia Vai Vaselà Vai Vaselà Grandissimo Quanto è grosso Vaselà Scusi signori Ma sempre così grosso È stato Vaselà Bello Rovesciati 1-0 subito così Pulito pulito Signori 1-0 pulito pulito Gol di Magri Il nostro Magri La spiazza lui Col numero 23 Bello così 1-0 Così Veloce Rapido In dolore Subito Non ci perdiamo in chiacchiere Bellissimo il gol Bello l'assistitiva Sella E bello il gol di Magri Complimenti Guardate 1-2 Pallonettino E Magri Che si è intorcigliato Su se stesso Però ha trovato il gol Va bene così Buona l'apertura qui Sulla destra Per Magri Che accedere È lento Magri Magri è lento Però va bene Riesce a liberarsi il difensore Vede Libero Chi sei? Wilding Che si gira Calcio d'angolo per noi Calcio d'angolo per noi Bella l'azione Bella l'azione Peccato per Wilding Che si è un attimino Inceppato Attenzione Bello Si crea lo spazio al centro La palla è lì Stacca di testa No Inutile Devo smettere di fare Questi calcio d'angolo Così non servono a niente Meglio passarla corta E giocarla Magri Ancora Cross palla dentro Non ci crede Ancora calcio d'angolo per noi Va bene Va bene Stiamo tenendo botta Stiamo tenendo botta Chi si viene a prendere il pallone Signori Magri Per Wilding Ancora lui Sta filata Ha colpito qualcuno Forse in tribuna Forse c'era qualcuno Che gli ha fatto Qualche fischio in tribuna L'ha colpito nettamente L'ha colpito nettamente Va bene così Siamo da loro Mamma mia che brutta palla Mamma mia che brutta palla Lory Che cosa fai Lory Ma che fai Ma che prendi mosche Hanno pareggiato 1-1 al ventesimo Signori Mamma mia Lory Ha subito il gol Da parte di Lory Perfetto Sono fratelli forse Ma porca mistera Che cavolo di gol Che abbiamo subito 1-1 Tutto da rifare Signori E' il cinquantesimo episodio Non ho intenzione di Chiuderlo con una sconfitta Cioè dico E' il cinquantesimo Dove portarci a casa La vittoria grande Megri Megri Fa tutto da solo Megri Dopatissimo Megri Megri Dopatissimo Signori Un Megri Dopatissimo Guardatelo Cadico A pallettoni Megri Dopatissimo Ha fatto tutto Da solo Ha fatto tutto Da sentrippato Mezza squadra Mamma mia Che ha fatto Megri E poi E poi l'ha piazzata Sull'angolo Sul lato più lontano Della porta Doppietta per lui Uomo partita Signori Spettacolo 2-1 Va bene così Attenzione ancora Loro Entrano su quella fascia Attenzione Dai Lo riesce o non esci Mamma mia L'ha tirata fuori Non lo so Il nostro partito Aspettava forse Che entrasse Con tutto il pallone In porta Non erano più palletti No Non possiamo Farsi errori Non possiamo E' fuori gioco E' fuori gioco Mamma mia Meno male Che l'ho fatto salire L'ho fatto salire Di un pelo Meno male Meno male Gli abbiamo preso Il fuori gioco Dai Dai Ripartiamo Ripartiamo 2-2 Che neanche commento Signori 2-2 Che neanche commento Cioè Boh Difesa Completamente Per i fatti Spropri Mamma mia Cioè lì Era una lisciata Terribile E hanno pareggiato Non lo commento Nemmeno Signori Anche lui Doppietta di L'O-Ray L'O-Ray Quindi Due doppiette In questa partita Che fissano il risultato Sul 2-2 Attenzione a Magri Noi questa volta Viene stroncato A terra Magri Direttamente Attenzione Ancora Loro Signori Sono diciottesimi Questi hanno preso Una traversa assurda Non ci credo Non ci credo Ma che cosa Ho appena visto Hanno fatto Il 3-2 Signori 3-2 Del Crev Del Crev Come cazzo Lo si chiamano Non lo sanno Solamente loro 3-2 Un gol assurdo Un gol assurdo Un gol assurdo In griglia Gli ha fatto l'assist Con la traversa Va bene Va bene Va bene Vincevamo 2-1 Attenzione McGregor McGree McGree Pallonettino Testa Gol 3-3 3-3 Prendi e porta a casa 3-3 Il nostro ragioniere Hugo Scott Fa il 3-3 Subito Buona così Buona così Buona così Dai 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 Bella l'azione Bella l'azione Bello Il pallonettino piccolo Di Cantè E lo stacco di testa Del ragioniere Va bene così 3-3 Partito e riprese Partito e riprese Attenzione è partito Di nuovo Cantè Su quella fascia È partito Cantè 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 Pallonettino Leggero E gol Stacco Stacco Ma cos'è Va bene Faccio finta di niente 4-3 Del moregambe Spettacolo Grandissimo Cantè Abbiamo due esterni Del futuro Bellissimi signori Mamma come si è lanciata Pesciolina Abbiamo due futuri esterni Bravissimi Cantè E Magri Incredibile Ricordiamoci che in panchina C'è Giardino Che È veloce Come 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 Sein Bolt Praticamente Quindi Attenzione ancora Stoccon da solo Stoccono 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 Sto al limite L'aria La piazza Attenzione Arriva Magri No Magri la sbaglia Vicinissima alla tripletta Magri Mamma mia Attenzione ancora L'apertura buona Per Cantè Su quella fascia Buona la partita di Cantè Signori Che arriva al limite La mette Stoccono Non ci capisce niente Stoccono non ci capisce niente Si è ubriacato Stoccono Attenzione ancora Mel Gibson Mel Gibson Su quella fascia Mel Gibson Mel Gibson Mel Gibson Cerca un pallonettino Ancora Mel Gibson Mel Gibson Non è bravo Nei cross Mel Gibson Non è bravo Nei grops Nei grops Cosa sono i grops Cantè Riceve il pallone La stop di Stoccono Che si gira 1-2 Stoccon Magri 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 La rimetta Al centro Niente Fuori gioco Fuori gioco Per noi Fuori Magri Per Giardino No 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 Diamo Diamo oramai Concludiamo la partita Così Signori Non facciamo sostituzioni Non me la sento Dai ragazzi Stanno giocando bene Non mi va Di fare Delle sostituzioni Delle sostituzioni Diamo merito A tutti quanti Poi può essere Che Magri Si porta a casa Una tripletta bellissima Guardalo Lì No Che partito Stoccono 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 Niente Attenzione a loro Che ci credono Attenzione a loro Che ci credono Gli serve un gol Per pareggiarla Signori E lo trovano Non ci posso credere Non ci posso credere 4 a 4 Signori Non ci posso credere Non ci posso Assolutamente credere 4 a 4 Niente L'Ori oggi Proprio inguardabile L'Ori oggi Il nostro portiere Inguardabile L'83 Prendiamo il gol Del 4 a 4 Attenzione Attenzione Kantè Kantè Però non ci sta Kantè Se ne va su quella fascia Kantè Se ne va su quella fascia Mando cazzo Non la vai Kantè Attenzione Ancora Loro Attenzione Signori Dovremmo prendere il gol Del 5 a 4 Fatemi capire Vogliamo perderla Questa partita Ok Piccola Luna Piccola Luna Vede il movimento Di Stoccon Che l'apre Per Kantè Dai 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 Che gli rifiliamo Il gol del 5 a 4 Dai che gli rifiliamo Il gol del 5 a 4 Pallonettino No 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 niente È finito È finito È finito Signori Finito C'è 4 a 4 Fra Morecambe Crew Alexandra Merce equilibrato Insomma Dai Bella partita però Combattuta Tanti bei gol Va bene così Va bene così Dai Carino Carino Ok signori Siamo comunque primi Il pareggio ci ha portato un punto Il lotto Il lotto non ha perso Va bene Dai Dai Va bene Comunque abbiamo Siamo portati in prima posizione Un ponticino che ci ha fatto salire su In classifica Allora facciamo questi allenamenti Così la squadra continua ad allenarsi Vediamo se riusciamo comunque A continuare a far crescere qualcuno In maniera bene Prossima partita Contro il Lutton So proprio loro Scontro diretto signori Ok giardino vuole giocare Va bene Noi non tocchiamo niente Così mi ricordo di mettere in campo il giardino Scontro diretto che ci può far andare via In campionato Oppure ci può prodottare nuovamente In seconda posizione Ma lo scopriremo nel prossimo video signori Bella a tutti Grazie a tutti